Roseto Valfortore, tra i borghi più belli d'Italia dei Monti Dauni, quest'anno per la notte dedicata ai falò, ha promosso un press tour dal titolo Di Santi, Paesi e Falò, finanziato dalla Regione Puglia, che riverserà nel paese un gruppo di giornalisti, blogger e influencer provenienti da tutta Italia, per far luce sulla bellezza del centro storico, il patrimonio boschivo, le tipicità enogastronomiche che caratterizzano questo territorio. La notte dei falò è prevista sabato 20 gennaio con la consueta benedizione degli animali in piazza Bartolomeo di Capua e la visita ai falò artistici. Il culmine della festa coinciderà con l'accensione dei fuochi alle 18.30, accompagnati da suoni delle fisarmoniche e dei gruppi di danze popolari. La serata sarà riservata all'immancabile sagra con i piatti della tradizione culinaria, pancotto, pane unto, soffritto, in voltini di cotenna al sugo, salsiccia, corratella sotto la brace, fagioli e cotenna cotti nella tipica pigna. I fuochi di Sant'Antonio Abate non sono semplicemente una tradizione portata avanti con orgoglio da intere generazioni, ma un segno profondo di venerazione nei confronti del santo, oltre che un simbolo per l'intera cittadinanza che si riunisce in questi giorni di festa raccolta in un clima familiare.